Torna per l'ottavo anno ad Agrigento il Master di scrittura della strada degli scrittori che si svolgerà dal 29 agosto al 6 settembre nei locali dello spazio Temenos di via Pirandello. Il tema sarà le parole del cinema. Registi, attori, scrittori si alterneranno come docenti nelle lezioni e laboratori di scrittura. Il Master consentirà di approfondire le tecniche di passaggio dalla scrittura all'immagine, scoprendo il rapporto con la musica, i segreti del montaggio e tutto quando c'è dietro la macchina da presa un'offerta di formazione rivolta a studenti, giornalisti, responsabili della comunicazione, giovani autori, aspiranti scrittori, editori, docenti e appassionati che si delisano a approfondire la propria conoscenza nell'ambito della scrittura creativa anche quando la parola diventa immagine. A condurre le lezioni e i laboratori coordinati dal direttore della strada Felice Cavallaro i volti di tanti film come la grande Manuela Ventura, l'intramontabile Fioretta Meri, Giussi Buscemi, la vicequestore Vanina della serie TV, Esther Pantano, la Suleima di Macari e ancora Paola Mammini, la sceneggiatrice di Perfetti Sconosciuti, l'autore del film cult come Cento Passi di Claudio Fava, il produttore Peppe Zarbo e attori del calibro di Alessio Vassallo, Vincenzo Pirrotta, Ninni Bruschetta, Gaetano Aronica, Salvatore, Nocera Bracco. Tra i registri parteciperanno Isabella Leoni, Costanza Quatriglio, Pasquale Scimeca, Beppe Cino, Rocco Mortelliti, Leandro Picarella, Giovanni Volpe, coinvolti i film maker Gallo e Gian Porcaro. Presenti anche giornalisti intellettuali come Domenico Iannacone, Gaetano Savatteri, Iva Sinardo, Beniamino Biondi e Marina Cassiglione. La serata La Navata della Chiesa di San Pietro sarà trasformata in una sala cinematografica per un festival del cinema aperto a tutti gli attori e registri che commenteranno così i loro film. Il primo appuntamento è il 29 agosto con una serata dedicata al film Mascaria ricordando il sacrificio dell'imprenditore di Gela Riccardo Greco, una drammatica storia maturata all'interno di quel pianeta antimafia dove anche le istituzioni travolta si macchiano di errori ed omissioni. L'ultima tappa sarà il 6 settembre con una serata dedicata all'imenticabile narratore di Vicata Andrea Camilleri. Nel giorno del suo compleanno saranno presenti alcuni familiari come la nipote e la scrittrice Arianna Mortelliti.